Quando uno pensa di aver visto il peggio di un'annata e poi non c'è mai fine alla merda perché questo The Man From Toronto è una delle cose più brutte che vorrebbe essere una vita di mezzo fra un action e un film commedia sugli equivoci ma è di una... Kevin Hart fa un ruolo insopportabile che vorresti mettere sotto con l'auto Udi Harrelson cerca un minimo di salva la baracca ma è una roba terrificante oltre alla truffa del fatto che Calle Cuoco compare per tre scene tre scene Sono Arkadin Hammer, benvenuti sul mio canale iscrivetevi, mi raccomando, ho una voce, non lo so, mezza tosta, non lo so, ventilatore con questo caldo comunque, mi si capisce mi raccomando, iscrivetevi perché mi impegno a portarvi questi contenuti dai, chi è che si sacrifica come ho fatto io andiamo avanti, senza perderci in chiacchiere, dai no spoiler, diciamo no spoiler che cosa succede? di che cosa parla questo cazzo di film? Kevin Hart è un fallito è un fallito che ha un canale YouTube con sette visualizzazioni in tre anni non vi dico per che cosa ed è un inetto per sbaglio entra in contatto con questo assassino Woody Harrelson The Man From Toronto che è uno che taglia dita estrae occhi fa cose assurde però c'è uno scambio di persona e questo porterà diversi personaggi sulle loro tracce ora, qual è il problema? che la regia tolto gli ultimi venti minuti in cui impazzisce e diventa camera a mano a caso Michael Bay esplosioni eccetera tutto sommato per la prima ora e mezza si salva perché è scarsa però non si fa notare per la merda la sceneggiatura è uno schifo fin dall'inizio ci sono elementi di commedia che costingono lo spettatore a dire ma che cazzo sto guardando perché questo non ha fatto questo e non quell'altro eccetera poi Kevin Hart è terribile terribile non è un attore è un comico che parla straparla e non funziona vorrebbe fare il Jimmy Fox Jimmy Fox di Collateral no non funziona perché la comicità è eccessiva è un personaggio poco costruito che gioca proprio sugli stilemi del Black insomma conoscete Kevin Hart Woody Allerson potrebbe cercare in qualche modo di sembrare algido così da contrastare la demenza dell'interpretazione di Kevin Hart ma se ne fa poco il film perché poi ci pensano delle scene ridicole che strizzano l'occhio un po' a Tarantino un po' a tutto questo cinema palpo un po' stupidino la trama è noiosa come la merda perché è prevedibile e non è entusiasmante non ha qualcosa di originale e di fresco quindi tu devi sorbirti un'ora e cinquanta di questa presunta commedia dove non succede niente oppure succede troppo Calle Cuoco messa lì per attirare le persone pagata due spicci per fare tre scene però te la presentano come personaggio importante un filmaccio le musiche dimenticabili l'azione l'azione non è interessante sono dei balletti poi ci sono dei riferimenti alla aspetta not contact box che è questa troiata questa nuova modo di fare box che il personaggio di Kevin Hart vuole vendere cioè guardate il film per capire non ve lo posso spiegare è una cosa orrenda titoli di coda orribili io non so che cosa dire è è l'abisso che guarda dentro di te tu dici è possibile che un film così esca è possibile sì probabilmente le scene sono state girate buona la prima perché non si spiega altrimenti non c'è un'indicazione registica non c'è niente però la cosa che mi fa ridere molto è che il film sembra prendersi per il culo da solo quando spuntano The Man From Tokyo The Man From Madrid The Man From Moscov però il tono è un po' troppo serioso per pensare che ci sia una parodia un prendersi sul serio ma non troppo quindi il film fa schifo fa schifo su tutta la linea non so come altro dirvelo sconsigliatissimo se volete farvi del male si fanno anche le solite tre quattro battute inclusive terribile io non voglio andare avanti perché mi sento traumatizzato anzi scrivetemi in voi cosa ne pensate e lo insomma qui sotto nei commenti io non ce la faccio non arrivo a fine 2022 a fine do it